Venditaria 2022 continua e continua con un'altra novità commerciale italiana, un'azienda campana che si rivolge al mercato nazionale e internazionale con un nuovo mercato, quello della produzione e commercializzazione di prodotti in carta, per prodotti intendiamo naturalmente in monouso, quindi i bicchieri e in questo caso lo abbiamo con un bicchiere con tanto di coperchio, complimenti, davvero complimenti Fabrizio Fetti, il CEO dell'azienda. Buongiorno a tutti, grazie. Fabrizio, questa è una grandissima idea, ci avete messo tanto per passare poi alla fase realizzativa, ma ce l'avete fatta. Oggi avete una struttura che si basa su 5.000 metri quadrati, tantissimi collaboratori e tantissimi clienti, vedo qui siamo circondati da tantissima gente che cerca e richiede informazioni sui vostri prodotti. Volevo innanzitutto parlare dei coperchi in cartoncino, anche se non è un articolo prettamente consumato per chi usa i bicchieri nelle macchine automatiche, è comunque una grossa innovazione, nasce dal fatto la mia idea perché ho pensato che fosse inutile proprio utilizzare bicchieri in cartoncino con coperchi di plastica. Da qui l'idea che poi si è trasformata in realtà, oggi produciamo quasi tutti i formati di coperchi per i bicchieri che sono in circolazione, sia prodotti da noi che da altri. Quanto riguarda i bicchieri in cartoncino, secondo me è un'evoluzione di quello che è stato oggi il mercato, l'abbandono alla plastica ormai è definitivo, secondo me, e quindi si tratterà di vedere nel futuro se ci saranno le possibilità di soddisfare tutto il mercato di questo settore, specialmente del vending, perché oggi come oggi ci sono grandi difficoltà per quanto riguarda la produzione, cioè ci sono pochi produttori e facciamo pochi bicchieri, quindi domani la sfida sarà quella di implementare e farne sempre di più per arrivare a saturare il mercato e abbandonare definitivamente la plastica che ormai, secondo me, è obsoleta. Oggi voi qui proponete diversi formati sia per il caffè per OCS, quindi il bicchiere da 75-80cc, che i 166, sia quelli per la parte normale, cioè automatica, che semi-automatica. Ormai siamo alla fira del vending, quindi quando parliamo di normalità parliamo appunto di automatismo. Quanto è stato complicato per voi riuscire a trovare i giusti equilibri e risolvere tutti i problemi, non ultimo quello legato alla smagnetizzazione dei bicchieri? Allora, innanzitutto cominciamo dal fatto che la commerciale nasce circa 5 anni fa. Noi in primis abbiamo cominciato a importare questi bicchieri, ci siamo fatti, diciamo così, un'esperienza, però abbiamo aspettato a debuttare nel mondo del vending, soprattutto perché non potevamo garantire una qualità costante, una sicurezza del materiale, dei controlli. Ci siamo dotati invece oggi di macchine automatiche che controllano sia il fondo che il bordo superiore in modo da dare la tranquillità ai nostri clienti che i bicchieri saranno sicuramente funzionali per quello che devono fare. Questa è una delle nostre principali caratteristiche, quella di essere perfezionisti. Noi vogliamo fare un prodotto che sia perfetto, quindi compriamo la carta dai fornitori più importanti europei, la trattiamo e collaboriamo soprattutto con molti di loro per lo sviluppo dei vari progetti. Nel futuro ci sarà anche la carta senza il polietilene, quindi una carta trattata che non ha bisogno della plastica all'interno. Questo è uno dei traguardi che ci siamo posti nei prossimi 5-6 mesi. Ecco, e allora infine diciamo che la tipologia di prodotto che andate a proporre, sia producendo che commercializzandolo, è sempre più alta. Per andare a soddisfare questa richiesta voi state potenziando mese dopo mese l'impianto produttivo che oggi è costituito da una serie di macchine che raddoppieranno entro il prossimo anno. Ci spiegavi prima di iniziare questa intervista facciamo appunto un ultimo focus sull'impianto produttivo. Quante sono le macchine, quanti sono gli addetti impiegati oggi? Allora, nel nostro obiettivo c'è quello di produrre circa 900.000 cartoni di bicchieri nei vari formati. Noi vorremmo, anzi la nostra intenzione è ferma, quella di abbandonare completamente il mercato cinese, non ci interessa più, anche perché abbiamo avuto problemi enormi, lo sanno tutti, problemi di importazioni, problemi legati al Covid, problemi legati all'aumento dei noli, cioè un mercato ti fa impazzire e soprattutto non hai un controllo sulla qualità, quindi per noi è fondamentale produrre in Italia. Ma io penso che sia giusto cominciare a pensare in termini di riportare tutta la produzione in Italia. Noi abbiamo bisogno di creare posti di lavoro, di dare futuro ai nostri connazionali, quindi è praticamente inutile continuare a gestire queste importazioni di questi prodotti di basso costo, perché poi i bicchieri non sono prodotti di alto livello tecnologico. Però, diciamo così, anche loro hanno bisogno di un controllo continuo, quindi questo lo possiamo fare nel nostro stabilimento con i nostri collaboratori. Questa è la nostra idea, è quella di ganciarci completamente dal mercato cinese. Noi penso che durante quest'anno riusciremo a raddoppiare gli impianti e quindi saremo in condizioni di dare il nostro contributo, perché qua si parla ormai di contributo a questo grande cambiamento che è quello dalla plastica al cartoncino. E allora, per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e magari, chissà, creare una nuova relazione commerciale con Commerciale Italiana. Allora, ringrazio tutti quelli che vorranno darci fiducia. Ci posso trovare anche tutte le informazioni sul nostro sito online, sono www.ue-bio.it. Quindi possiamo avere tutte le informazioni. L'azienda è Commerciale Italiano SRL, siamo a San Nicola a Stata, a Caserta praticamente, il nostro stambiente è lì. Grazie ancora a tutti e arrivederci a presto. Ecco, allora, Wee-bio si scrive esattamente come la scritta che è alle nostre spalle, con il trattino tra Wee e bio. Noi bio, noi bio per sempre. Grazie Fabrizio, simpaticissimo come sempre. Io mi aspetto di rincontrarti alla prossima fiera, magari per la linea Oreca, per chiederti appunto quali sono le novità che nel frattempo sarai riuscito a mettere in campo. Grazie per il prezioso contributo. Grazie a voi, grazie, buona giornata, grazie a tutti.